Buonasera e ben santinizzati su Clagemauer TV, ovvero il muro del pianto dei mass median. Bruno Tussaud, editore della rivista francese Prescrain, espone che secondo una ricerca medica americana è più alto il numero delle vittime causate dall'assunzione di farmaci che quelle causate dagli incidenti stradali. Solo in Francia muoiono annualmente 20.000 persone per via degli affetti collaterali dei farmaci. Il 5% dei pazienti sono ospitalizzati a causa di un medicinale e non a causa della sua inefficienza. Gli utenti del traffico possono stare tranquilli, assumere dei farmaci è considerabilmente più pericoloso che guidare una macchina.